a1 per lavori chiuso il tratto tra aglio e il bivio per la variante di valico in entrambe le direzioni ai mezzi superiori a 7,5 tonnellate per lavori chiuso anche il tratto tra aglio e roncobilaccio in direzione bologna e tra pian del voglio e aglio in direzione roma la viabilità cittadina a firenze via michelacci chiusa nel tratto da via della cupola a via di peretola fino al 5 marzo muoversi toscana è un servizio realizzato in collaborazione con regione toscana città metropolitana di firenze e comune di firenze buon viaggio grazie a tutti